Musica Mercoledì 3 novembre ben ritrovati, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale Centro Notizie Brindisi che apriamo con il nuovo report diffuso dalla Asla di Brindisi in relazione all'emergenza Covid, il report settimanale. Attualmente sono 207 i soggetti positivi nel territorio brindisino ma tornano, seppur lievemente, a crescere i contagi. Aggiornamento settimanale dei dati sull'emergenza Covid nell'ultimo report a cura dell'Asla di Brindisi. Alla data del 31 ottobre risultano positivi 207 soggetti in tutta la provincia, di cui 87 uomini e 120 donne con un'età media di 44 anni. I positivi sono così suddivisi per fasce di età, 45 nella fascia 0-18, 129 tra i 19 e i 64 anni, 24 positivi tra i 65 e 79 anni, 9 negli oltre 80 anni. Per quanto riguarda la distribuzione per comune, i positivi sono 48 a Francavilla Fontana, 33 a Latiano, 26 a Brindisi, 22 a San Vito dei Normanni, 17 a Fasano, 13 a San Michele Salentino, 11 a Mesagne, 9 a Carovigno, 9 anche a Dostuni, 6 a Sandonesci e poi tutte le altre città della provincia. I comuni con i maggiori valori di incidenza accumulativa sono nell'ordine Francavilla Fontana, Brindisi, Torre Santa Susanna e Oria. Nel periodo compreso tra il 24 febbraio 2020, inizio dell'emergenza, e il 31 ottobre 2021, sono stati sottoposti a tampone molecolare in provincia di Brindisi 135.000 residenti. Il tasso di letalità è pari all'1,8%. Ora diamo uno sguardo invece ai numeri regionali con le grafiche e con il bollettino che è stato diffuso in mattinata dalla Regione. Ecco qui, 232 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore, 22.601 i test effettuati, 8 le persone decedute in Puglia nelle ultime 24 ore. Vedete nel dettaglio, 43 nuovi contagi nel Barese, 10 nella Batta, 26 in provincia di Brindisi, 60 nel Foggiano, 24 nel Leccese, 67 nel Tarantino, 2 i casi invece relativi a, ancora in via di definizione. Vedete questo invece il report totale per quanto riguarda la Regione Puglia, 3.134 sono le persone attualmente positive, 142 di queste sono ricoverate in aree non critiche dei vari non so commi, mentre 16 sono ricoverate in terapia intensiva. Continuiamo a parlare di sanità ma lasciamo l'emergenza Covid perché c'è una fase anche post Covid che è la ripartenza della sanità e molti ospedali in provincia di Brindisi in questo senso già da tempo si stanno riorganizzando. Tra questi c'è quello di Francavilla Fontana, pensate l'ospedale Camberlingo della città dell'Imperiali sarà centropilota nazionale per la chirurgia della parete addominale. L'ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana diventerà centropilota a livello nazionale per gli interventi di ricostruzione dei disastri di parete addominale grazie ad una nuova tecnica sperimentata per la prima volta in Italia. A darne notizia Giovanni Bellanova, direttore del reparto di chirurgia generale, a settembre dice abbiamo eseguito due interventi di ricostruzione di disastri della parete addominale che sono difetti dovuti a operazioni multiple o traumi con un nuovo strumento che consente il riavvicinamento dei piani muscolari con un particolare sistema di trazione. Questi interventi, particolarmente delicati, sono stati eseguiti sotto la supervisione del chirurgo tedesco Gereon Lille. La casistica della chirurgia di Francavilla Fontana è stata presentata ai congressi nazionali di Messina, Catania e Milano dal trattamento delle diverticoliti acute gravi all'esperienza sull'addome aperto fino a tante altre operazioni che hanno ottenuto riscontri positivi da parte di tanti professionisti. Nonostante i due lockdown, nonostante i due mesi di blocco per la ristrutturazione del reparto abbiamo eseguito circa 1.700 interventi con un aumento concreto del peso delle prestazioni rispetto al passato. Abbiamo gestito diverse urgenze con pazienti particolarmente critici e inoltre abbiamo iniziato a lavorare in chirurgia mininvasiva laparoscopica con un attore di dotazione e abbiamo una colonna laparoscopica 4K full HD con possibilità della visione in 3D. Abbiamo un lettino operatore di ultima generazione che ci permette di mobilizzare il paziente e consentire una buona riuscita degli interventi. Abbiamo operato anche diversi disastri di parete addominali che sono quelle patologie della parete addominali nei pazienti pluri operati e non per ultimo, diciamo, da citare siamo stati i primi a utilizzare un sistema di trazione della parete qui in Italia nello scorso settembre con un'ottima riuscita nel paziente che non poteva essere operato non è stato operato da altre parti, è stato poi operato da noi con un'ottima riuscita. Altra novità della chirurgia del Camberlingo è la gestione e il trattamento delle infezioni fulminanti e delle medicazioni complesse con l'impiego della pressione negativa in collaborazione con la medicina iperbarica dell'ospedale della Marina Militare di Taranto. Doveva fare alcune operazioni in un ufficio postale ma si rifiutava di indossare la mascherina tant'è che i dipendenti sono stati costretti a chiamare le forze dell'ordine e a questo punto è scattata quasi una colluttazione anche con i carabinieri che hanno dovuto arrestare una donna di Erchia. È entrata nell'ufficio postale senza mascherina pretendendo di effettuare ugualmente le operazioni allo sportello non contenta anche strattonato e minacciato i carabinieri intervenuti Per questo è stata arrestata e subito dopo rilasciata una cinquantenne di Erchia che ieri martedì 2 novembre ha dato vita a momenti di grande tensione all'interno dell'ufficio postale della città. La donna che si definisce una no masca avrebbe avuto una reazione scomposta nei confronti del personale dell'ufficio postale che le ha fatto notare di non poter entrare in un ufficio pubblico senza mascherina così come previsto dalle normative anti-covid. Il direttore ha dovuto richiedere ad un certo punto l'intervento delle forze dell'ordine per interruzione di pubblico servizio ma neppure l'arrivo dei carabinieri della locale stazione ha rasserenato la cinquantenne che anzi avrebbe posto resistenza attiva strattonando e minacciando i militari in presenza di più persone. Per questo, di concerto con il pubblico ministero di turno del Tribunale di Brindisi è stata arrestata in fragranza di reato per esistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e subito dopo rimessa in libertà. Torniamo a parlare di ripartenze anche delle iniziative messe in campo dalle amministrazioni locali per aiutare l'economia. Tra le più attive c'è sicuramente quella di Mesagne che ha deciso di concedere gratuitamente l'occupazione suolo pubblico a tutti gli esercenti fino al prossimo 31 dicembre. Il comune di Mesagne prova a dare una mano ancora una volta ai commercianti della città Con delibera di giunta numero 274 l'amministrazione comunale ha prorogato infatti fino al 31 dicembre 2021 la validità delle autorizzazioni all'occupazione gratuita del suolo per i locali di pubblico esercizio che gestiscono attività di somministrazione di alimenti e bevande. Tavolini fuori dunque fino al prossimo 31 dicembre senza dover pagare praticamente nulla. Il provvedimento si legge nella determina tiene conto della proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale e ne considera tutte le ragioni. Le autorizzazioni rilasciate ad ogni singolo esercizio commerciale si intendono pertanto valide ed efficaci sino alla fine dell'anno in corso senza necessità da parte dei gestori di dover riformulare le relative istanze. Un'iniziativa fortemente voluta dal sindaco di Mesagne Antonio Matarrelli e dall'assessore comunale alle attività produttive Antonello Mincenti. Mantengono piena efficacia dunque tutte le condizioni di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico contenute nei singoli atti di concessione. Tre persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente che intorno alle 23 di ieri si è verificato sulla strada 379 che collega Brindisi con Barri all'altezza di Pozzo Faceto nei pressi di Fasano. I malcapitati viaggiavano a bordo di una Ford Fiesta che per causa di accertare si è ribaltata. I tre occupanti sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni che hanno rimosso il mezzo incidentato con il supporto di un autogru partita dal comando di Brindisi. Il sinistro è stato rilevato dalla polizia stradale. giornalisti alla scoperta di Torre Guaceto e dei comuni limitrofi per raccontarne le bellezze. Il Consorzio di gestione dell'area protetta ha organizzato un press tour che ha portato professionisti della comunicazione a fare tappa nel territorio di pertinenza della riserva. Obiettivo dell'azione è promuovere le ricchezze locali. Per quattro giorni cinque giornalisti di testate nazionali hanno visitato le città limitrofe a Torre Guaceto e vissuto le esperienze più antiche che il territorio ha da offrire con il fine ultimo di promuovere presso l'intero paese le inestimabili risorse dell'area di pertinenza della riserva. Hanno preso parte all'iniziativa alcuni giornalisti nazionali ma anche alcuni tra i dieci fotografi più importanti al mondo. Un intervento straordinario nato dalla volontà del Consorzio di gestione di Torre Guaceto di mettere a sistema l'offerta turistica sostenibile locale e sostenere le realtà virtuose del posto promuovendole presso il grande pubblico. La riserva non è un'isola si legge in una nota del Consorzio e le collaborazioni con gli stakeholders locali impegnati sul fronte dell'accoglienza e della sostenibilità ambientale e sociale sono state sempre numerose. Ciò che ora il Consorzio si pone come obiettivo è la creazione di un'offerta turistica virtuosa e strutturata con tutti gli operatori pronti a seguire gli standard di sostenibilità dell'area protetta. Adesso apriamo la pagina dedicata allo sport iniziamo dal basket perché quella di oggi è una giornata importante per l'Eppy Casa Brindisi che si gioca quasi tutte le chance ormai rimaste a sua disposizione per continuare l'esperienza in Europa a differenza di quanto sta facendo in campionato fino ad oggi è stata piuttosto sfortunata la squadra Vitucci nel cammino europeo di Champions League e oggi in Turchia si gioca davvero tantissimo cinque vittorie consecutive nella stagione regolare 3 su 3 al Palapentasuglio in questo inizio di stagione la Epic Casa Brindisi vuol continuare a tenere inviolato il proprio campo di gioco e ha bisogno di tutto il tifo del pubblico biancoazzurro per questo a cominciare da ieri sono stati messi in vendita i tagliandi per assistere ai prossimi due match casalinghi di campionato valevoli per la Liga Basket di Serie A per questo a partire da ieri martedì 2 novembre sono stati messi in vendita i tagliandi per assistere ai prossimi due match casalinghi valevoli per il campionato di Liga Basket di Serie A Epic Casa Brindisi contro Trentino sabato 13 alle ore 20 ed Epic Casa Brindisi contro Milano il 5 dicembre domenica alle ore 17 intanto questa sera con Gaspardo e Ciappel già rientrati in squadra nella vittoriosa gara di sabato 30 ottobre contro Venezia la Epic Casa Brindisi sarà di scena a Istanbul in Turchia per incontrare nella terza giornata di stagione regolare di Champions League la Darussafaka con cui condivide lo zero nella casella dei punti la formazione turca tuttavia ha al suo attivo soltanto una gara giocata mentre la New Basket viene da due sconfitte consecutive casalinghe una debacle questa sera dunque potrebbe risultare fatale per il futuro europeo della squadra di Vitucci ed ora il calcio con la serie D il Brindisi che prova a tenersi stretta la serie D nonostante un avvio di stagione disastroso un solo punto in nove giornate fino a questo momento non ha prodotto frutti almeno sul piano dei risultati la rivoluzione applicata dal presidente Daniele Arrigliano anche se fondamentalmente domenica scorsa contro il Fasano si sono visti enormi passi avanti almeno sul piano della prestazione ascoltiamo le valutazioni del presidente Arrigliano e del tecnico Biancazzurro Nello di Costanzo questa volta almeno c'è il conforto della prestazione il Brindisi prova a ripartire da questo e dal suo pubblico quello ritrovato domenica scorsa sugli spalti del Fanuzzi due note positive in un campionato disastroso sul piano dei risultati un solo punto in classifica ed un ultimo posto che diventa sempre più preoccupante il presidente Daniele Arrigliano dopo la sconfitta interna con il Fasano e la rivoluzione tecnica dei giorni scorsi continua comunque a dirsi ottimista può rimanere la soddisfazione di una buona partita ma purtroppo non produce punti adesso più che mai a noi servono punti io ho parlato con i ragazzi gli ho fatto notare quanto la città di Brindisi con un minimo riesce a starci vicino in maniera importante e che loro devono sicuramente esprimere una prestazione a Casarano dove oltre all'aspetto tecnico devono necessariamente portare punti a casa perché altrimenti ora possiamo fare tutto quello che vogliamo ma la classifica diventa veramente una cosa preoccupante Che umore ha visto nello spodiatoio? Prima della partita e nell'intervallo un umore molto alto e poi nel finale chiaramente ho purtroppo visto anche qualche lacrima ma è più che normale ed è giusto che sia così anzi probabilmente perché i ragazzi sono veramente attaccati alla voglia di far bene ma devono trasformarla in punti e classifica che si muove Chiede tempo il nuovo allenatore Nello Di Costanzo ci manca soltanto il gol adesso commenta ma sono certo che questa squadra sia destinata a crescere Beh sì è vero il primo tempo la prima mezz'ora soprattutto abbiamo spinto sull'acceleratore abbiamo creato diverse occasioni da gol la squadra ha creato gioco il secondo tempo dopo un'occasione straordinaria nei primi minuti con Silvestro che ha cambiato campo su De Luca che ha colpito di testa la palla rimbalzata davanti alla porta è andata sulla traversa insomma dopo questa occasione siamo un poco calati soprattutto dopo quell'episodio del gol che è stato un attimo di distrazione abbiamo subito il loro blocco e si è trovato l'avversario solo nel finale devo dire che abbiamo gettato il cuore oltre l'ostacolo tutti quanti si sono prodigati e si sono create anche diverse occasioni da gol in quel caso lì veramente potevamo con un po' più di cattiveria trovare il gol poi si è messo anche l'arbitro che ha fatto degli errori veramente abbiamo un aggiornamento di cronaca dell'ultima ora questa mattina un'auto una Ford Fiesta condotta da un 52enne brindisino ecco stiamo vedendo anche le immagini nel transitare sulla complanare della strada statale 7 in direzione Brindisi urtava un brindisino senza fissa dimora di 70 anni che vive di espedienti questi si spingeva un carrello sul quale c'era un grosso tubo metallico lungo circa 6 metri nell'urto il tubo si conficcava nell'auto dal lato passeggero colpendo di rimando il pedone che veniva schiacciato a sua volta sul guardrail l'auto fermava la marcia uscendo fuori strada dopo aver impattato col muro perimetrale di un'abitazione il conducente dell'auto è in osservazione dopo che gli sono stati applicati 15 punti di sutura il pedone che ha avuto la peggio è in rianimazione ed è sottoposto attualmente a un delicatissimo intervento chirurgico dal personale medico dell'ospedale Perrino notizia dell'ultima ora che vi consegniamo anche con queste immagini e allora è davvero tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro telegiornale ma l'informazione non finisce qui perché tra poco c'è il nostro approfondimento con il fatto con il direttore Walter Baldaconi parte tecnica di questo telegiornale curata dalla sede di Brindisi di Studio 100 TV da Alessandro Colabito grazie per l'attenzione buon proseguimento con i nostri programmi